Da dove nasce questa città fantastica? Tra tutti i suoi palazzi ce n'è uno che più d'ogni altro racconta l'anima di San Pietroburgo. L'Ermitage. 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 L'hémitage può essere considerato un ponte della cultura, è un ponte anche tra i popoli. I musei danno capogiri, sfuggono la morte, sono luoghi dove si dovrebbe perdere la testa. Tra le mura dell'hémitage è facile smarrire il senso dello spazio e del tempo. L'hémitage è come un risultato di tutto. L'hémitage è come un risultato di tutto.